Il città di Cosenza continua a muoversi sul mercato in attesa dell'inizio ufficiale della nuova stagione. L'ultimo colpo arriva dalla Cina e si chiama Niu Guanan, marcatrice classe 92. Dopo l'ingaggio della greca Eleni Satirelli, portiere, ecco un'altra straniera alla corte del presidente Manna. La giocatrice cinese, nastro nascente della palla nuoto, è reduce dall'esperienza positiva alle Olimpiadi di Rio. Coach Capanna già da tempo pensava ad un rinforzo per la squadra e la Guanan, nell'esperienza di Rio, ha dimostrato di potersi destreggiare anche in altri ruoli. Per l'arrivo ufficiale della giocatrice si aspetta l'iter burocratico legato al paese di origine. Intanto le ragazze di Capanna continuano la preparazione in vista dell'avvio di campionato in programma il 15 ottobre. Assenti giustificate il portiere Sottirelli e Giussi Citino impegnate con le rispettive nazionali giovanili e l'Olimpione Capomeri ancora a riposo. Quello che è certo è che Sette Rosa Cosentino è pronto a ripartire, tante le ambizioni per confermare l'ottimo lavoro svolto nello scorso campionato. Nei prossimi giorni le ragazze di Coach Capanna potrebbero essere impegnate in una tournée all'estero. Da Cosenza per la CNews24.